Esistono migliaia di lavatrici e la maggior parte di esse presenta la vaschetta del lavaggio e la vaschetta del prelavaggio Oltre ovviamente a quella dell'ammorbidente Ma molti di voi in fase d'acquisto mi specificate che la volete obbligatoriamente costi una lavatrice Quindi senza avere il classico cassetto dei detersivi che non presenta la vaschetta del prelavaggio Beh in realtà quella lavatrice che non presenta la vaschetta del prelavaggio è soltanto una, ovvero un modello dell'Electrolux Infatti se tutte presentano appunto la vaschetta del prelavaggio, del lavaggio e dell'ammorbidente E sono praticamente tutte così L'unica che non la presenta è appunto la lavatrice dell'Electrolux Precisamente la Timecare serie 500 Infatti come potete notare presenta soltanto la vaschetta del lavaggio e quella dell'ammorbidente Però comunque offre la possibilità di effettore il prelavaggio Ma come? E si infatti nelle impostazioni aggiuntive c'è il pulsante di prelavaggio Beh perché in quel caso il prelavaggio va inserito direttamente all'interno del cestello della vostra nuova lavatrice dell'Electrolux Timecare Quindi state tranquilli, state tranquille che tutte le lavatrici presentano comunque la fase sia di lavaggio che di abborbidente Ma soprattutto la fase di prelavaggio E voi lo sapevate, per queste altre info utili sul mondo dei grandi elettrodomestici seguitemi in ogni social Ciao raga!